Ma ci mancherebbe, ci mancherebbe che non vada bene, siamo meravigliosi. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso. Bene, allora i dissidenti da una parte, quelli che si tengono la diaria di là, le spie di qua, quelli già venuti al PD di qua. Soldi, 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 tanti soldi, beati siano i soldi, i bene amati i soldi perché, che ha tanti soldi, vive come un pascià, e attivica di senità. Sì, si parlerà dopo? Di un po' tutto, signori mi lasciate. La diaria quanto incide nell'incontro di oggi, dopo anche la vicenda siciliana. Era già programmato, signori. Sì, ci ha detto anche quello, che sarebbe giusto decidere tutto, poi se qualcuno ha dei problemi particolari magari... Guardi, ci sono molte cose personali, cioè nel senso ognuno ha la propria situazione personale, e anche contributiva, e anche di assegni familiari, di persone, di figli. Oh, soldi, 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 tocca sana, di questa quotidiana battaglia della grana perché, che ha tanti soldi, vive come un pascià, e a piedi caldi se ne sta. Ognuno avrà delle esigenze diverse a seconda di dov'è, dello studio di vita che aveva, e dello studio di vita che ha incontrato poi venendo qua. Ma se qualcuno se li vuole tenere, se li tenga, lo rimostrerà ai cittadini. La diaria, che cosa avete deciso? Ma cosa è la diaria? Manifetcia il piosci!